Gentili telespettatori, buona giornata. Per Giorgia Meloni il fallimento del governo e del ministro Speranza è ufficiale e ne chiede le dimissioni. Dice che nonostante il Green Pass e il Super Green Pass tornano le restrizioni e le limitazioni alle festività. Il fallimento di Speranza è ufficiale, chiederne le dimissioni è un atto dovuto, lo scrive su Facebook. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento della giornata di Natale per quel che resta, buon Santo Stefano e cerchiamo di pensare positivo, come cantava Giovanotti, io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Vabbè, a parte Giovanotti, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti, un saluto natalizio.